Ciao a tutti i cinefoniaci, io mi presento, mi chiamo Simone e sono come voi un cinefoniaco e seguo questo forum da circa 4 mesi. Dopo aver seguito per 4 mesi questo forum ho deciso di acquistare un cinefonino, non vedevo l'ora di provarne uno e mi sono buttato su un ultra low cost che è appena uscito qui a ottobre, ve lo faccio vedere, è il Qbot S168, vedete scatola Qbot classica con le istruzioni qui in tutte le lingue, istruzioni e le caratteristiche tecniche, l'ho comprato sul Camebuy che era in prevendita a 65 euro più spedizione, Camebuy regala ancora anche questo, questo fullerino, mettete marchiato, nero arancione, vi regala anche questa screen protector in metro temperato, l'ho provato, l'ho misurato e l'ho fatto apposta per questo telefono e poi anche questa che è una power bank piccolina sempre marcata Camebuy, da 2100 mAh con due cavetti, facciamo via, da aprire il telefono, come vedete scatola classica, qui abbiamo il telefono, togliamo questo se riesco, avete una pellicola protettiva standard, una è già applicata quindi fa due, una cover trasparente, questa è un po' usata, mi arriverà più trasparente così, poi abbiamo che è la batteria, il caricabatterie marchiato, il libricino solito delle istruzioni e il cavo usb micro usb standard, non ci sono le cuffie ma quelle lì con 7 10 euro le comprate, qui il telefono, io l'ho preso in versione bianca, mi piaceva di più così, devo dire che per i soldi che costa non è affatto male, allora, vi faccio vedere, se avete lo schermo c'è il bordino cromato e la back cover bianca, facciamo un giro, c'è il bottone accensione spegnimento del blocco, volume, qui sopra avete usb e cavo jack per le cuffie, pulito e sotto avete microfono e la scanalatura per aprire la back cover, qui di fronte avete la capsula auricolare, i sensori, la fotocamera da 5 megapixel e i tasti che sono disegnati però hanno la vibrazione, non sono retroilluminati in mano alla vibrazione, poi dietro c'è la fotocamera da 8 megapixel con flash led un po' giallino, ve lo dico subito, il marchio è lo speaker, come vedete la fotocamera è un po' in rilievo, questo fa sì che se lo appoggiate per terra lo speaker non venga del tutto e tuttito, però avete questo gioco qui, devo dire che la qualità è buona secondo me, vi ripeto è il mio primo cinofonino, c'è solo qualche scricchiolio qui nella back cover, soprattutto qua sotto dove si aggancia, sentite, però devo dire che è molto solido, ve lo apro, e di niente supporti però questa plastica qui è molto buona secondo me, è un po'... e qui avete batteria 1900 mAh, micro usb, dei micro usb scusate, micro sim che però va solo in 2g, sim standard che supporta il 3g, la micro sd per l'espansione fino a 32 giga e qui avete lo speaker, qua se mettete la micro sd ve la rileva subito come disco esterno quindi ve lo scrive direttamente di tutte le applicazioni, allora noi abbiamo 14 centimetri e mezzo di altezza, 7,2 di larghezza e 8 millimetri e mezzo che sono qui di spessore, peso 155 grammi, direi molto buono, io nell'utilizzo normale non ho riscontrato, non è pesante, si porta bene, si tiene bene in mano, dopo vi faccio vedere una cosa, con la cover in plastica che gli danno praticamente il gradino della fotocamera viene azzerato, vedete, e quindi non si muove più, togliamo, ok, vi faccio vedere il punteggio AnTuTu, andiamo subito, scusate il puntino rosso di tanto in tanto ma, allora, il telefono viene riconosciuto, ha un punteggio di 18948, direi molto buono per i quad core, vediamo le informazioni, c'ha un android kitkat, il processore è un 6582 della mediatek, mali 400 di scheda e risoluzione schermo 540 x 960, quindi un Q piccolo HD, camera posteriore da 8.3 megapixel, ram 1 giga e poi la densità 240 ppi, tpi, vi mostro il touch che è segnato per 5 tocchi, in realtà ne ha due soltanto, vedete, però funziona bene, questo ci devo dirvelo, la camera frontale da 4.9 megapixel, poi abbiamo il sensore dell'accelerazione, sensore della luce e di prossimità, ok, direi che questo schermo, nonostante sia un Q piccolo HD, ma sinceramente piace molto, perché è molto luminoso, ben definito, ve lo faccio vedere subito, è luminoso sì, molto questo sì, e probabilmente nei colori chiari vi darà fastidio perché non noterete di più la luminosità, vediamo se riesco ad abbassarla un secondo, vedete è un IPS, quindi nero non sarà mai nero nero, ma diciamo che il bianco è bello luminoso, qui sta la scala di colori, ma vi faccio vedere anche l'angolo, divisione, vedete, è molto buono, verde, blu, usciamo dal test qui, vi faccio vedere un paio di immagini che avevo preso appositamente, vi dico già che sono in HD, cioè ragazzi, io faccio il cuoco, quindi vi perdonatemi le immagini, come vedete è molto bello, e la frutta qui, le gocce d'acqua soprattutto, dopo un po' storpia, ma non è affatto male, guardate, la frutta, il girasole, non male direi, poi, devo dirvi subito, allora, la parte telefonica funziona bene, a parte qualche, non posso dire, storpiatura ogni tanto nella capsula, però vi sentono molto bene, quello si, e la messaggistica funziona bene, whatsapp e facebook pure, e whatsapp vi farà qualche errore di data solo all'inizio, quando inserirete la sim oppure le scambiate di posto, o per qualche motivo la togliete, e poi devo già dirvi che bluetooth funziona benissimo, non ha problemi, infatti vi vorrei anche vedere qui una cosa che a me è interessata molto, qui avete l'iconcina, vedete, con la lampadina e il timer, per già impostare lo standby, quando il telefono deve spegnere lo schermo, qui è già setata a 15 secondi, vedete 30 e 45, e un'altra cosa bella, è che avete questa funzione, questa funzione che mi permetterà di condividere video attraverso bluetooth su altri schermi, vedete, non l'ho provata perché ho una tv che sostengono il bluetooth, e poi anche il wifi riceve bene, non ha problemi, il gps è lo stesso, vi faccio vedere, dov'è, screenshot, eccoli qua, no ho sbagliato, ecco questo vedete, non è male, una volta agganciato il segnale, anche se lo usate come navigatore con google maps non ha problemi, anzi, va molto bene, bene, passiamo alla fotocamera, devo dirvi che a me è sorpreso molto, pensavo fosse molto peggio, invece mi è piaciuta, vi faccio vedere questa, una macro vedete, con la fotocamera posteriore, ripeto da 8 megapixel, guardate, per un telefono da 70 euro direi che non è affatto male, anche questa, questa macro, della mosca, diciamo che anche le panoramiche non sono malvagie, non è malvagie, poi vi faccio vedere quella anteriore, da 5 megapixel, questo è un esempio, anche questa direi che perché vuole farsi i selfie non è malvagia, qui c'è la mia fronte, va bene, non importa, anche nei video non è male, infatti ne ho fatti un paio, vi chiedo scusa per il tremolio, ma è il primo video, questo è il pan veloce, che avete lo zoom, scusate i tocchi pesanti, vedete che storpia, ma... poi qui c'è un video normale, avete partito dalla macro, stile Galeazzi, mi piace molto, quindi ho preso un po' spunto anche da lui, vedete un po' incontro sole, incontro sole adesso, direi che si regola molto bene, velocemente, anche tornando indietro, e devo dire che sono soddisfatto, ho speso poco, e mi piace, poi che dire, attiviamo il wifi, così vi faccio vedere, e faccio anche sentire lo speaker, che secondo me è molto buono, vi metto un trailer che a me piace, poi se un altro ne vuoi piace, meglio. qua i video su youtube sono i prodotti a 360p, che è la risoluzione massima, andiamo avanti, dove c'è qualche basso in più, da farvi sentire, qui ecco, la finiamo, ok, non male direi, vi faccio sentire, anche la musica, come si sente, spero vi piaccia, la minita indietro, la minita indietro, la minita indietro, ok, Ok, ecco lì, a posto, poi vediamo i giochi, lo farò vedere a Real Racing ma mi sono dimenticato di avviarlo prima, faccio vedere Subway Surfer, non ha problemi, è molto fluido nell'utilizzo normale, anche nei giochi, persino a Real Racing funziona bene, quindi non avete problemi. Eccoci qui, prova a gioco, sono riuscito a trovare Real Racing, vi faccio vedere, metto medio volume abbondante, permetto che non sono un campionio di Real Racing. Vedete, non ha alcun tipo di problema, ogni tanto sì, come vi ho scritto anche nell'articolo, c'è qualche cosa di frame, qualche lagamento, laghetto, ma nel complesso, vedete, è molto fluido. Qui si ferma sempre, anche qui, faccio vedere gli specchietti, quindi è a massima risoluzione. Ecco, come avete visto, non ha problemi neanche nei giochi, questo è abbastanza pesante. Direi che è anche bellino, non è male, insomma, non è un HD, ma per questo prezzo. Ok, usciamo. Che dire, anche il browser funziona bene, come non detto, sapete che cancello. Come potete vedere ho messo la shift key, e direi che con due tocchi va molto molto meglio. Ci sono meno intoppi, vediamo se c'è, se carica cinefoniaci. Direi che non è male, eh. Ecco, che è un po' di ritardo, ma guardate. Per l'uso quotidiano, secondo me va più che bene. Poi dipende come usate il telefono, cosa cercate. Questo è un telefono base, quindi quello è. Vi faccio vedere le impostazioni. È un classico KitKat, vedete. A parte questa cosa in più, che si chiama Gesto. Non so se la vedete questa. Praticamente vi da delle funzioni, nello sbloccare il telefono e altre cose, a telefoni in standby. Questa è la build. Modello riconosciuto. Vi faccio vedere il gesto. Lo mettete in standby. Faccio un gesto così. E si sblocca. Molto spesso vi fa vedere anche il gesto che fate. Ma in questo caso no. Non lo fa sempre. Niente. Vi fa vedere il gesto che voi fate sullo schermo. Non sempre, come avete visto. E vi sblocca il telefono. Poi, che dire. Altro. Avete già installata. Quasi praticamente tutto. Niente di extra. Quindi è proprio stock. Con le icone che ormai sapete. Insomma, sono un po' all'orientale. Io possego un LGM e sono leggermente diverse. Avete la radio che funziona bene. E anche con le cuffie si sente bene la musica. Voi avete la torcia già di suo. Vi faccio vedere che il led è un po' giallino. Vedete? Infatti di notte, se fate delle foto, non è che sia proprio tutto questo spettacolo. Mi sembra tutto. Vi posterò delle foto. E... Che dire. Grazie. E ciao a tutti. Ok? Ok? Ok?